Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema riguardo al controllo che non si collega su Padworld Ovviamente a me il controllo su Padworld funziona perfettamente senza nessun problema Può essere per i driver che non avete aggiornato sul vostro controllo oppure che non è proprio connesso al sistema Quindi in questo caso se tu vai su gestione dispositivi puoi fare tutto da qua Ovviamente il mio controllo è periferica Xbox 360, me lo segna come periferica Xbox però non è Xbox il mio controller Questo è il controller, ci clicco sopra, vado su driver e qui puoi direttamente fare disabilità dispositivo e abilità dispositivo Oppure su aggiorna driver, cerca i driver nel computer, scegliamo così un elenco ed eccolo qua Un modello di Xbox 360 per Windows e faccio avanti e lo comincio a installare Poi una volta installato non ci resta che, ok, occorre avviare il computer affinché l'hardware funzioni correttamente E riavviate il vostro sistema Potete direttamente fare, come ti ho detto, facciamo direttamente disabilità e abilità Oppure puoi risolvere direttamente sulle periferiche di gioco Quindi se tu vai a scrivere controller, configura dispositivi di gioco USB Ti uscirà così questa schedina, vai su proprietà, vai su test, impostazioni, qui impostazioni Ripristina predefiniti Ripristiniamo tutto, facciamo ok Controller USB connesso, eccolo qua Come puoi vedere, sto muovendo il controller, questo qua che si sta muovendo Funziona Asse Z Pulsanti E lo stato del mio controller funziona Se in questo caso su avanzate qui sopra non c'è proprio nulla Inserite il controller USB controller Eccolo, qua fate ok Stato ok Ora, quello che ci resta da fare è andare sulla modalità Big Picture Visualizza modalità Big Picture Eccola qua Prendo così un gioco, clicco su header ring Vado su controller, eccole qua Clicco qua sopra Layout della comunità E qui Mi fanno scaricare il layout della comunità Per esempio, clicco su questo Download in corso Faccio X Applico così il layout E ho aggiunto così questo layout sul gioco Ed eccolo qua Ora, non mi resta che avviare Palworth Come puoi vedere Il controller a me funziona Grazie anche a quelle modalità Big Picture Scaricando così il layout sul gioco E aggiornando così i driver Inizio a giocare Eccolo qua Guardate, il controller funziona Guardate, il controller funziona Quindi, se questo video è stato utilissimo Su come risolvere il problema del pad Che non riesce proprio a connettersi a Palworth Commenta sotto al video Cercherò di darti una mano E noi ragazzi Ci vediamo ad un prossimo tutorial Ciao 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 Ciao